Senatore Garavaglia, vedere come viene applicata, chiariamo, esiste un problema serio di discrepanza fra reddito dichiarato e consumi in Italia, in Lombardia ogni 100 euro dichiarati ne spendiamo 106, quindi 6 piovono giù dal cielo, sono frutto evidentemente di evasione, elusione, ma il dato lombardo è il dato più basso di tutto il paese, la media nazionale è 119, quindi in media nella Nazione Italia si evade 3 volte la Lombardia e un pochettino in più. Tutto il meridione è sopra i 130, quindi ogni 100 euro dichiarati ne spendi 135 in Puglia, 138 in Campania, 140 in Sicilia, 148 in Calabria, ogni 100 dichiarati ne spendi circa 150, è un problema proprio di discrepanza fra reddito dichiarato e consumo. Il redditometro potrebbe aiutare a risolvere questo problema, però diciamo potrebbe, bisogna vedere bene perché come al solito il diavolo sta nei dettagli, bisogna vedere se la cosa funziona o se invece come al solito verrà utilizzata per spennare ancora al nord che già evade pochissimo. Sul Sole 24 ore si legge però che penalizza le fasce più deboli, ha ragione? Ha ragione per definizione perché come abbiamo detto prima il problema è di discrepanza fra reddito dichiarato e consumi, è evidente che se uno consuma un reddito basso c'è un problema, ma quello che bisogna capire è se il reddito è basso perché uno non lo dichiara o se è basso per davvero.